Ok, sto con Franchi, Franchi! Qu'est-ce qu'il faut? C'est parti! Sous-titrage ST' 501 Sì Grazie. 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 Oh my god. Grazie. Eduton. Edoardo! 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 Cosa vuoi? Edoardo! Edoardo! Puoi venire in sessione con me? Oh no, ma io sto insieme a Francia! Edoardo, venire in sessione! Edoardo! Edoardo, ho capito! Ti ho messo i messaggi e io lo so che non giochi! Ah, lo conosci Francesco? Allora, io sto già online! Tu? Come stai? Ok! Capito che... Dove stai? Dove devi andare, guardo! Io sto già in online! No esco! No esco! No esco! No esco! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guardo, non c'è. Lui a lavoro è mostro da solo a giocare, quindi... Questa è verde speranza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Castellino mi ha distrutto, Franci! Papà non gioca e guardo! Ciao! Ciao! Grazie a tutti. 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 E guardo, ti ho detto che papà non sta. Quindi noi, quindi io sto da sola. Stora solo Stora solo Fragi Tortellini Fragi Tortellini Papà Allora io sto con E io sto sguardo E io sto giocando E io sto giocando con Fragi Tortellini Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.